Sono Monica Sirelli dal sito www.ft-azione e dal canale youtube eft-azione e parliamo oggi di attaccamento. L'attaccamento è il legame che il bambino instaura con la sua figura principale di accudimento, in generale la madre, e lì poi da lì, anche diventato adulto, quindi riguarda anche tutti noi, si creeranno dei rapporti simili, cioè si tenderà a ricreare l'ambiente familiare, l'ambiente conosciuto che si è vissuto nell'infanzia. Perciò è molto importante conoscere questa situazione, ma è ancora più importante riuscire a trasformarla. L'attaccamento può essere di due tipi, sicuro, cioè dove la figura di riferimento era presente, ma ci ha lasciato anche la libertà e lo spazio necessari per lo sviluppo, perché sapevamo che avremmo sempre potuto tornare, pur vivendo l'esperienza della conoscenza del mondo, e questo ovviamente è quello che ci permette di essere sicuri e che pochi di noi in realtà hanno vissuto. E poi c'è l'attaccamento insicuro, cioè tipologia di attaccamento dove alla situazione disfunzionale o la madre che non è così presente, così positiva, così affettuosa, così fisica, così dolce, accogliente ma anche libera e sicura a lei per prima come donna, si sviluppano quindi tre tipologie. La prima tipologia è l'attaccamento ansioso, cioè questa dipendenza continua, questo continuo bisogno di essere riconfermati dalla madre perché si ha paura che tornando non la si troverà, che poi sviluppa sindrome di abbandono ovviamente. C'è l'attaccamento distaccato dove il bambino per proteggersi da un genitore non sempre disponibile sviluppa diciamo un distacco per primo, quello che potremmo definire una ferita da rifiuto, cioè decide che lui per primo chiude e poi anche da adulto, lui per primo cerca di chiudere i rapporti, di non essere troppo coinvolto emotivamente per evitare di rivivere quell'antica sofferenza e paura e poi c'è il sentimento, c'è l'attaccamento ambivalente, cioè è l'attaccamento diciamo dove si ha bisogno della persona ma con la persona si sta male e quindi c'è un po' un lo cerco, lo mollo, lo mollo, lo cerco ma c'è un po' di confusione all'interno del bambino e questo perché la figura di attaccamento era veramente invasiva anche nei momenti in cui si stava insieme, non era uno stare insieme positivo e questi attaccamenti come ci interessano oggi? Ci interessano perché li possiamo vedere rispetto a come ci comportiamo con le persone a cui teniamo, rispetto a quali sono le nostre tipologie, siamo rifiutanti, siamo ansiosi, siamo ambivalenti, siamo confusi, siamo arrabbiati, queste relazioni, queste emozioni che ci sono nel corpo non riguardano le relazioni che viviamo oggi ma riguardano questo primario attaccamento, quindi oggi l'esercizio che vorrei proporre di FT è proprio quello di indagare su qual è il vostro tipo di attaccamento per liberarsi da questi antichi schemi, quindi partiamo subito dal punto karate, io sono il verbo per mezzo della volontà di diventare consapevole della tipologia di attaccamento che ho. e per passare dall'attaccamento insicuro all'attaccamento sicuro fai il respiro sopra la testa il mio attaccamento sicuro e il mio attaccamento insicuro quindi rilascio ora tutti i modelli negativi di attaccamento insicuro familiare che hanno contribuito alle mie relazioni disfunzionali respiro centro dell'occhio rilascio tutti quei modelli che mi hanno procurato attaccamenti non sicuri lato dell'occhio grazie per questo attaccamento insicuro ansioso, evitante, timoroso ambivalente tutti e tre respiro sotto l'occhio sotto l'occhio li ho tutti tutti gli attaccamenti insicuri respiro sotto l'occhio lascio andare questi modelli di attaccamento insicuro nelle relazioni nel lavoro nella vita nelle relazioni di coppia nelle amicizie nelle relazioni di famiglia sotto la bocca grazie per questi modelli tutti questi modelli di attaccamento modelli che ho introiettato dalla mia esperienza ma modelli che mi hanno anche proiettato modelli familiari gravicola ora scelgo di allontanarmi dalle credenze limitanti che ho su di me e sul mio relazionarmi con gli altri l'idea che ho di me nelle relazioni punto del timo l'idea che ho di quanto possono durare le mie relazioni di quanto interesso agli altri nelle relazioni di quanto posso essere amata in una relazione è un'idea il che vuol dire che in qualunque momento può essere trasformata perché finora non è stato possibile trasformarla perché avete portato avanti abbiamo portato avanti un modello comportamentale di trasmissione del messaggio all'altro dove continuavamo a dirgli io sono sempre stato trattato così trattami anche tu così e quindi ovviamente poi l'ansia sotto l'ascella l'aspettativa che ogni incontro che faccio sia come mia madre mio padre e tutte le mie esperienze precedenti respiro sotto il seno rilascio ora tutti i modelli negativi di aspettativa dell'altro l'idea che ho del mondo esterno e degli altri che mi limita nelle relazioni e adesso facciamo tre frasi per consolidare grazie perché sono pronto ora ad entrare nell'attaccamento sicuro ad assumermi la responsabilità di un attaccamento sicuro grazie perché ora è sicuro per me avere un attaccamento sicuro e frequento e attiro persone con cui è possibile avere un attaccamento sicuro sono pronte anche loro per attaccamenti sicuri respira punto delle dita mi fido della vita e delle relazioni imparo a fidarmi di me del mio valore e degli altri respiro e sentite come c'è questa fluidità che scorre nel vostro corpo questa morbidezza questa apertura questo rilassamento questa fiducia nella vita e se non lo sentite rifare l'esercizio se vedete che è un tema prezioso per voi 21 giorni se vedete che avete comunque delle situazioni che non riuscite a risolvere la cosa migliore la cosa migliore qual è fare delle lezioni perché le lezioni vi possono aiutare a fare un percorso individuale a individuare quei nodi che da soli è difficile risolvere perché a volte noi anzi spesso noi non riusciamo a vederci non riusciamo a comprendere cosa si muove buona pratica e alla prossima buona giornata grazie a tutti